benvenuti in questa guida top 7 fumetti manga di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo one piece vol 7 one piece vol 7 è un fumetto manga divertente e avvincente seguiamo le avventure di luffy e della sua ciurma mentre affrontano i loro nemici e cercano di trovare il tesoro one piece la storia è ben scritta e i personaggi sono ben caratterizzati punteggio 76 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo anime e manga alla scoperta e anime sono una parte importante della cultura giapponese questo libro offre una panoramica completa sull'arte la storia e l'influenza di questi media una lettura interessante per chiunque si è interessato a scoprire di più su questo mondo affascinante punteggio 80 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo demon slayer kimetsu no yaiba demon slayer è un manga eccezionale la storia è ricca di azione avventura e colpi di scena i personaggi sono ben sviluppati e l'illustrazione è incredibile una lettura obbligatoria per tutti gli amanti del genere punteggio 79 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare dragon ball super vol 18 dragon ball super vol 18 è un fumetto manga divertente e coinvolgente la storia è ricca di azione avventura e colpi di scena i disegni sono dettagliati e ben realizzati un must per tutti i fan di dragon ball punteggio 82 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo detective conan new edition vol detective conan è un manga divertente e coinvolgente il protagonista shinichi kudo è un detective brillante che risolve misteri con l'aiuto dei suoi amici la trama è ben scritta e le illustrazioni sono di alta qualità un must per i fan del genere punteggio 85 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo crea il tuo manga fumetto crea il tuo manga è un fantastico regalo per chiunque amico per chiunque ami fumetti manga con 100 tabelloni da personalizzare adulti adolescenti e bambini possono creare le loro storie originali un'idea regalo divertente e creativa punteggio 90 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica naruto vol 1 naruto è un fumetto manga divertente e avvincente la storia è ben scritta e i personaggi sono ben caratterizzati il disegno è dettagliato e colorato rendendo la lettura piacevole un ottimo inizio per una serie che promette di essere entusiasmante punteggio 91 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale